Nostro Minus, numero 59 De Francesco Marco, numero 92 Duper Davi, numero 8 Chiodo Lucas, numero 15 Caletti Edoardo, numero 98 Mizi Iosef, numero 17 Costantin Soel, numero 27 Gustaccia Ardennis, numero 23 Marchetti Michele, numero 44 Schiavone Davide, numero 9 Daniel Nesso, numero 47 Biondi Luca, numero 11 Kockner Link, numero 29 Giuliani Francesco Grazie 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due minuti di penalità al numero 92, già cominciata, il vinterno qua nel scambetto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.